scandale 21 gennaio 2012 sono le 7 e 23 e siamo di fronte la manca la banca di credito cooperativo di scandale dove stamani è convocata la la prima assemblea per quanto riguarda l'elezione nel nuovo consiglio di amministrazione c'è già gente in giro che si sta recando alla banca mentre o almeno abbiamo visto una persona non dire a nessuno si tratta di filippo lettieri che è molto nervoso alle 7 5 si è preso il caffè al bar di diana vedete qua siamo al muro della banca e notate la differenza noi vigliacchi le persone vigliacche hanno lasciato integro il loro manifesto qualunquista e di poco e di poco conto in cui dicono cazzate che nessuno mai crede e hanno strappato hanno fatto strappare il manifesto dell'altra dell'altra lista la quale ne hanno combinato grazie ai favori insomma del commissario carlicchio di di tutti i colori leggiamo quello che è rimasto che dire per esempio delle deleghe raccolte da alcuni ricordo insomma questo banche casa per casa e la spesa della banca stessa il commissario forse non non se ne è accorto che le persone lasciavano il lavoro per andare a raccogliere le deleghe insomma il manifesto avremmo modo di leggerlo in altre in altre parti non potevano strapparli tutti anche perché qualcuno li avrebbe visti qui sentono sentono la banca loro e fanno e fanno quello fanno quello che che vogliono stamane mentre inquadro il bellissimo palazzo drammiz stamani si è convocata per le nove in prima convocazione l'assemblea dei soci per eleggere il nuovo consiglio di di amministrazione della della banca di solito per trassi la la seconda convocazione quella che che ha valore perché è stata convocata alla grande insomma con risalto sul sul foglio insomma della convocazione su la lettera mandata ai soci e che era prevista per la prevista per domani alle 15 al centro pitacone insomma un centro e un locale importante per raccogliere si prevede insomma molte centinaia di persone insomma e invece forse non so cosa possa succedere forse devono controllare perché i soci potrebbero anche decidere tanti soci di di venire stamani e quindi render valida la prima di convocazione e quindi c'è un po di di allerta e gente già per strada di sabato alle alle sette insomma testimonia quanto quanto è importante per per loro questa questa battaglia per il mantenimento del del potere di un potere negli anni tenuto 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 con forza e fatto valere quando 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 serviva si si parla di ricatti si parla di di situazioni davvero paradossali per una piccola comunità di 3000 anime potere giocato a proprio piacimento per esempio ho saputo di di prestiti di ugual prestita a persone più o meno dello stesso simile insomma e dati ad alcuni al 5 per cento e altri al 7 per cento perché perché ci rispondi il signor carlo brescia perché succede questo oppure per esempio ultimamente con l'ingresso dei dei soci nuovi di crotone fatti da dal commissario gallicchio un commissario che dovrebbe essere dovrebbe doveva essere di super partes che invece ha fatto il bello del cattivo tempo è stato dato un prestito al signor pizzuti che sta costruendo un centro commerciale su su crotone e oltre un milione di euro al 3 per cento pensate un milione di euro al 3 per cento quando ci sono società banchi che danno gli interessi attivi a oltre il 4 per cento vedete come arrivano già i dipendenti qui la banca che insomma come vedete dal mio orologio sono le 7 e 26 non so se riuscite a vedere hanno dato prestiti da oltre un milione di euro al al 3 per cento è un qualcosa di vergognoso un qualcosa di davvero vergognoso che solo con questa gestione sballata insomma questa gestione politica e debito altri termini per evitare querele è stato possibile è stato possibile possibile fare niente siamo qui vedremo insomma come si evolverà questa giornata che si presuppone sia sia molto molto calda vista visto la posta in gioco in quanto appunto alla lista cosiddetta del del commissario del licchio si è poi aggiunta un'altra un'altra lista che sta cercando di 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 difendere gli interessi degli degli scandalesi perché nella lista appunto del commissario che la porta era già aperta quindi c'è già qualcuno dentro non so dalle macchine non direi non mi sembrano macchine da banchieri insomma ma il cancello era aperto forse c'è già c'è già qualcuno dentro è arrivato con altri con altri mezzi in questo in questo fortino del del potere dicevamo alla lista del commissario gallicchio nella quale ci sono quattro scandalesi e cinque forestieri di cui quattro di cotone e crotone che non esiste fino ad ora non c'entra nulla con la banca di scandale sono stati appunto raccolti negli ultimi tempi 200 soci di cotone che sono entrati con una piccolissima quota mi sembra 500 euro sono diventati soci sui adesso diventeranno se va come dicono loro diventeranno addirittura consiglieri forse uno di loro diventerà presidente e quindi la banca di scandale creata dai nostri avi dai nostri nonni dai nostri padri che fine farà che fine dicono che manterranno la sede a scandale ma ma che vuol dire mantenere la sede a scandale se poi decideranno i graziani gli oppoli i pizzuti gli stasi insomma i marrelli decideranno sulle sorti della nostra cara banca che lasciando stare come è stata gestita parlo delle varie assunzioni di chi ci lavora lo sapete tutti inutile che faccia io dei nomi bene o male è stato sempre un rifugio insomma poi alla fine è bene che qualcuno lavori insomma un disoccupato in meno è sempre una cosa positiva benché poi alla fine sono sempre i figli dei figli loro insomma i parenti loro va bene c'è già gente in banca sono le 7 e 29 ci aggiorniamo più tardi